Grazie per la visione! Follower piuttosto che gli italiani che sono nella Grande Mela, vi aspetto tutti quanti domani sera al Club Love di Brooklyn, poi posterò l'indirizzo esatto eccetera eccetera perché faccio al Club Love di Brooklyn, dopo vi posto tutte quante le informazioni esatte e precise. Nel frattempo baci e abbracci dalla Grande Mela, state sintonizzati, ci vediamo fra poco. Ciao! La mia prima esibizione negli Stati Uniti, non solo, la faccio in inglese perché le cose facili non ci piacciono, se no mi annoio. Quindi ci vediamo domani sera al Club Love. Quindi Andy, allora? Dimmelo! New York City, qualche dritta per gli italiani che... New York City! Qualche dritta per gli italiani! Quindi mi hai capito! Come si sta nella Grande Mela? Male! Ma quindi il sogno americano? Siamo svegliati! No! È finita così! No! È un buon numero, ma è vero! Bello! No! 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 stiamo questa va bene E' quella giusta Nel frattempo ho fatto una serie di strike però non li avete visti